Ciao, stiamo facendo un lavoro bellissimo sul gruppo, proprio sullo scoprire e sul realizzare il tuo sogno. È proprio un lavoro guidato dagli esseri di luce che ti permette di trovare quello che è il tuo sogno, se non l'hai ancora trovato, se non ne sei consapevole, di apportare quelle modifiche che ti facciano veramente arrivare a sentirti bene, a farti sentire realizzato, perché comunque alla fine quando tu vuoi realizzare qualcosa, quello che vuoi veramente è provare quelle emozioni che proverai, che sussenti, che proverai nel momento in cui avrai realizzato quel qualcosa. Quindi, se non l'hai ancora fatto, buttati nel gruppo, buttati nel gruppo, rispondi al questionario, mi raccomando, con un profilo vero, perché stiamo rimbalzando un po' di persone che non ci danno sicurezza, perché il gruppo è molto molto protetto, perché facciamo un lavoro molto molto serio. C'è qualcuno che urla qui vicino, ma tutto va bene. Quindi, mi raccomando, se non ti sei ancora iscritto al gruppo e vuoi fare questo lavoro come tanti altri, come le dirette che noi facciamo solo nel gruppo ormai, buttati dentro il gruppo e troverai il link proprio qui sopra. Ciao! Ciao! Ciao!